Mister Rosso Blu, Maurizio Cerasa, arriva alla prima sconfitta della storia del nuovo FC Ponzacco 1920 dopo 65 partite utili consecutive, la sconfitta per 1-0 qua a Lucca. Come hai preparato la partita in settimana sapendo di affrontare una tra le squadre favorite del campionato? Come sempre, non c'è stato qualcosa di particolare. Noi abbiamo perso con Castelnuovo, con Pietrasanta, ma sempre 44-45, mettendoli sempre in grande difficoltà. La partita come quella di oggi per noi non è una novità, pur lavorando con tante difficoltà. Oggi siamo stati bravi, fino a fondo, siamo stati premiati da questo gol. Il fatto di aver battuto il Ponzacco ci riempie di orgoglio, però non è che è stata una partita che non abbiamo mai disputato. Abbiamo sempre perso per un episodio finale, siamo sempre stati in gara con tutti. Per cui per noi, insomma, e aver fatto la partita di oggi non è stata una novità. Soprattutto sulla parte atletica avete messo in difficoltà il Ponzacco. Questo su giocando con una squadra coperta che ripartiva con le ripartenze di Galligani a dare appoggio a Bozzi. L'unica soluzione di tattica che potevamo fare, non potevamo affrontare il Ponzacco al campo aperto. Sono stati bravi a chiudirci, a ripartire. Ci ha sostenuto la condizione fisica che invece domenica per esempio non c'è stata. Questo è stato forse il motivo del successo, perché le altre partite le abbiamo solo perse nei dieci minuti finali, proprio per una non buona condizione fisica. Ecco, gli obiettivi di questa Fortis Lucchese? Non so nemmeno io, abbiamo dei problemi anche societari oggi, stamattina. Sì, abbiamo visto l'articolo su Tireno di Lucca. Sono stati bravi a escludere questi problemi dalla nostra testa, a pensare solo al campo. Non so nemmeno cosa possa succedere ora, ci prendiamo questa soddisfazione. L'obiettivo è che siamo partiti con una squadra di tanti ragazzi, tanti senza preparazione, che tantissimi non hanno fatto neanche questa categoria. L'obiettivo è quello di salvarci anche all'ultimo minuto, all'ultima giornata. L'obiettivo è evitare la successione diretta, non possiamo pensare altro in questo momento. Grazie e in bocca al lupo, mister.